Io sono arrivata con un buco nel cuore e con tanta ombra, con la tristezza dentro e vado invece a casa con un sole dentro, una luce immensa, con l'amore per me, l'amore di tutte queste persone che sono state con me, che amo immensamente e vado a casa con una rinnovata fiducia su quello che è il lavoro con me ma con te e un ritorno a casa anche con Patrizia, è sempre una grande gioia per me lavorare con te e questo il lavoro grande è stato incontrare quest'ombra che era dentro di me però l'emozione grande è stata proprio l'abbraccio dell'ombra con la luce e questa connessione è la possibilità di scelta che ci viene offerta e quindi vado a casa con una grande leggerezza nel cuore, un pieno di luce Grazie Patti, grazie, grazie, grazie